Ogni volta che utilizzavo Twitter, che è stato il social che a me ha cambiato la vita, veramente, più degli altri che poi sono arrivati di conseguenza Vedevo che l'impatto di una notizia in inglese era devastante Bella raga bentornati al basement, questo vuol dire che sta per iniziare una nuova puntata, una nuova chiacchierata Io in realtà l'ho appena finita, come vedete qui c'è la cuffia giù, la tazza In realtà anche una maglietta che mi ha portato l'ospite di oggi, che è Fabrizio Romano E mi ha portato una maglietta con uno dei suoi tweet più celebri, o X, adesso vedete voi come chiamarla Fabrizio Romano per chi non lo conoscesse, in realtà è molto noto nel mondo del calcio Perché è uno dei giornalisti sportivi più forti in questo momento, ma non solo in Italia, nel mondo Sicuramente il più seguito nel mondo, 27 milioni di followers su Instagram Su X invece vi dico solo un numero, 4.2 miliardi di interazioni nella scorsa estate Più di quelle di Elon Musk, che tra l'altro è il proprietario di X Un giornalista sportivo in realtà molto giovane, che però ha letteralmente conquistato il mondo Grazie a tutta una serie di cose che ci racconta in realtà in questa puntata Dove andiamo a scoprire non solo come funziona un po' il mondo del giornalismo sportivo Ma anche alcune dinamiche che ci stanno dietro e che probabilmente non avreste mai immaginato Soprattutto alcuni aneddoti legati alle notizie che vengono date e ai rapporti con alcuni giocatori E soprattutto all'etica in realtà morale che c'è nel caso di Fabrizio Romano Insomma una puntata che secondo me potrà essere davvero di grande ispirazione Sia per chi conosce questo mondo ma soprattutto per chi non lo conosce E per chi vuole saperne di più Una grande storia di ispirazione per chi vuole provare a vivere delle proprie passioni Anche a costo di fare grandi sacrifici Direi che siamo pronti, quindi passate dal basement anche voi Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement Ci siamo, bentornati, ciao io sono Gianluca Gazzoli Se ancora non l'avete fatto eviva iscrivetevi a questo canale Se ci state guardando e ascoltando su YouTube Fatelo così non vi perdete assolutamente nulla Se ci state ascoltando su tutte le altre piattaforme Grande, continuate a farlo anche lì che ci fa sicuramente grande grande piacere Anche perché ci sono puntate da non perdere assolutamente come questa Perché attenzione Fabrizio Romano è passato dal basement Ebbene sì Fabrizio Ciao, grazie per l'invito Ma di che, grazie a te per essere qui Perché io credo che la tua sia una delle storie più interessanti Degli ultimi anni, dal mio punto di vista Ma secondo me anche dalle persone che ci seguono Perché è una di quelle storie un po' da basement in qualche modo Anche perché notavo nelle tante cose che hai fatto Che stai combinando che ci sono alcuni punti in comune molto interessanti Tanto tutto a posto? Tutto bene, tutto bene, sono settimane di Champions Quindi un po' più di tranquillità dopo il calciomercato Però preparando un'estate che credo sarà folle Sì, sì, effettivamente Allora, tu credo abbia dei momenti di grande fuoco all'interno della stagione In generale poi anche nell'ultimo periodo Proprio perché insomma Sei anche diventato un personaggio molto conosciuto anche in Italia Sì, è stata tutta una crescita abbastanza regolare All'inizio che poi anche in Italia è evoluta Io su quel punto di vista ho avuto la fortuna di iniziare molto giovane Intorno ai 18-19 anni con Sky E quello mi ha dato la possibilità insomma di identificare Un po' quello che piaceva di più a me dal punto di vista giornalistico Ho sempre avuto questo sogno del giornalismo sportivo Ma poi si può declinare in tanti modi E il mio preferito poi è diventato subito il mercato Mamma mia, è un tema diciamo che come sempre smuove gli animi Sotto tanti punti di vista Intanto io tra l'altro ero convinto Insomma sono rimasto colpito Tu vivi a Milano, in realtà la tua base è a Milano Io vivo a Milano, sono di Napoli Ho lasciato Napoli a 18 anni Ho la mia famiglia ancora lì Mamma, papà Però vivo a Milano da quando ne ho 18 Quindi sì, casa a Milano Quindi da qua però la figata del 2024 Ma anche del 23, del 22 Forse qualche anno prima Che comunque pur restando qui tu riesci a essere comunque tutto il mondo in qualche modo Sì, è sempre stata una mia priorità Quella comunque di mantenere il mio equilibrio Cioè tante persone quando mi incontrano magari qui a Milano Mi dicono ma credevo vivessi a Londra Infatti, ti giuro anche io ero convinto No, me lo dico spesso Però io ho sempre voluto mantenere il mio equilibrio Cioè i miei amici, la mia vita di tutti i giorni qui a Milano Perché per me è fondamentale Perché poi in realtà il mio lavoro si fa al telefono Cioè non richiede una presenza fisica A meno che non ci sia qualcosa Ma infatti questo credo sia molto interessante Uno spiegare il tuo lavoro Vabbè Fabrizio Romano è un giornalista sportivo In questo momento credo il più seguito al mondo Almeno per quanto riguarda i social Così dicono A quanto siamo adesso su... Cos'è Twitter? Quello su cui sei più X ormai? Instagram Instagram è diventato il più forte? Sì, con più di 27 milioni 27,1 Esatto Sì, invece Twitter sono... No, i X sono numeri folli Quest'estate oltre 4 miliardi di interazioni su X Superiore a Elon Musk Cioè stiamo parlando di robe folli Perché da una parte il calcio o lo sport in generale Allora si sa che può creare dei numeri di un certo tipo Soprattutto in realtà in Italia No? Io mi accorgò anche quando anche al Besme Magari facciamo puntate come possono essere queste Dove il tema è il calcio Ci sono dei numeri magari che vanno a richiamare a delle altre attenzioni Però quello che fai tu è comunque superiore a tutto questo Ti dico il calcio mercato ha la potenza Ha due grandissimi fattori secondo me Ha la potenza di raggiungere tutti Perché anche se non sei tifoso di quella squadra Sei curioso di cosa sta succedendo nelle altre squadre Quindi è un tema che porta a parlare tutti costantemente dei trasferimenti Di dove andranno i giocatori Di che tipo di movimenti fanno E poi che è un tema attivo Cioè tu aspetti sempre che qualcosa succeda ogni singolo giorno Non sei passivo in base a quello che pubblico Ma vieni a cercare quello che sto pubblicando Per capire dove andrà quel giocatore O chi compra la tua squadra Però diventa difficile credo diventare il punto di riferimento Per questa cosa qui Quella è stata la cosa più difficile Perché uno dice ok come sta andando il calcio mercato Vado sul sito X, Y o Z O vado a vedere Fabrizio Romano Che cosa mi dice È stata la cosa più difficile Perché devi coniugare quantità È fondamentale Quindi l'ossessione ogni giorno 365 giorni all'anno A tutte le ore Col telefono acceso operativo Cioè non puoi dire Oggi mi riposo Non guardo il telefono due ore Perché non puoi farlo Neanche il giorno dopo la fine del calcio mercato C'è sempre qualcosa che può succedere E poi devi mettere la qualità La qualità è quella che a me ha cambiato tutto Perché poi le persone riconoscono quando c'è credibilità Esatto Credibilità Credo poi sia l'altra parola importante Cruciale Cruciale Soprattutto perché poi i social che a me hanno cambiato la vita Perché poi è iniziato come ti dicevo Con un percorso classico Di giornalismo tradizionale con Sky Ma poi ho capito che i social erano il futuro Per il modo di comunicare Per come le persone aspettavano le notizie Magari non più soltanto con uno show la sera O il giornale la mattina Ma volendo le 24 ore su 24 Lo capivi per strada Quando la gente ormai non ti chiede più Chi prende la Juve, il Milano o l'Inter Ma vogliono sapere com'è la clausola, la recissoria Quando si attiva, quanto si paga Cioè la gente è curiosa di qualunque dettaglio Questa cosa è cambiata tanto Questa è cambiata tantissimo Io non ricordo che anni, anni fa Magari una persona voleva addirittura sapere Tutte queste altre cose in più È così perché adesso i social ti danno la possibilità Ogni giorno di approfondire ogni dettaglio Ogni ora, ogni minuto Quindi a me quello ha dato tantissimo spazio Però la qualità diventa fondamentale Perché poi il rapporto con le fonti Ecco quindi le persone che ti danno le notizie Passa da lì e devi essere credito Io credo che è molto interessante Perché ci sono tante cose dietro Che noi non vediamo Alcune cose che credo che facciano parte Del tuo lavoro Insomma come se tu vai da un prestigiatore A cercare di farti spiegare Come ha fatto sparire Non so La tipa sotto il lenzuolo Però insomma resta comunque che Insomma il mondo del calcio e dello sport in generale È comunque sempre di grande ispirazione per le persone E tanti sognano di lavorarci Non per forza facendo il calciatore Ma anzi c'è gente che fa grandissimi studi Ci sono università che ti insegnano di tutto Poi credo che sia sul campo che viene fuori Guarda io sono il peggior sponsor possibile per l'università Eh esatto Purtroppo nel senso che ci sono stato un anno E ho avuto la fortuna di fare un liceo classico difficile Fantastico che mi ha lasciato tantissimo Quindi mi sono approcciato all'università Già con l'idea di quello che volevo fare Difficile perché intendi Per il percorso Molto complicato nel senso Dal punto di vista dei professori molto tosti È stata dura Non è stato un liceo semplice per me E ringrazio ogni giorno Questo a Napoli A Napoli Sì il liceo classico lì a Napoli Che mi ha dato tanto Nel senso che proprio mi sentivo pronto Dal punto di vista da studente Però sono arrivato all'università E sentivo che io avevo già in mente Quello che volevo fare Cioè stavo studiando per prendere la patente Quando avevo già capito Cosa volessi fare in realtà Non mi serviva quel passaggio lì Allora dopo un anno ho detto Io voglio continuare ad andare sul campo Perché poi la mia fortuna È stata che io Mentre finivo il liceo classico L'ultimo anno Scrivevo già su qualche piccolo sito Mandando qualche mail Provando in ogni modo Di che anni stiamo parlando? Parliamo del 2009 Io finisco il liceo Sì tra il 2010 e il 2011 Il 2011 mi trasferisco a Milano Quindi sì tra il 2009 e il 2010 Io ho iniziato tra i 16 e i 17 A scrivere per qualche piccolo sito Cose molto piccole Però giusto per capire io Beh però in quegli anni lì Ad esempio anche i social Non erano assolutamente come oggi Instagram che hai citato prima Non esisteva Forse finiva usato Per modificare i filtri Delle foto Esattamente E basta Quindi insomma Sicuramente è una cosa Completamente diversa Tu sei sempre stato appassionato Di calcio in primis? Sì solo calcio Per me è sempre stata Quella l'ossessione Ecco io credo che abbia fatto La differenza nel mio caso L'idea è chiare Cioè io sapevo che volevo Lavorare nel calcio Che mi affascinava tanto Il calcio mercato E poi ho appena Ho avuto il primo episodio Di calcio mercato Che mi ha coinvolto In prima persona Quando ripeto Ero poco più che un bambino Non avevo neanche gli strumenti Per poterlo gestire Quello Che mi ha cambiato la vita Mi ha fatto capire Che io volevo fare Era la strada Era quella strada lì Il calcio Scusami come Beh essendo a Napoli Io credo che sia entrato Sì è entrato per strada Perché poi si torna sempre Alla strada Però sì Per strada Napoli È sempre stato Insomma il pane quotidiano E devo ringraziare mio papà Perché poi è stato con lui Che mi sono avvicinato Il mondo dello sport in generale Mio papà è un grande appassionato Di sport Non solo di calcio Soprattutto di calcio Però da lì con il calcio E tu il calcio mercato Da piccolino lo osservavi? L'osservavo O è stata una cosa Che in qualche modo Mi piaceva tanto da subito Mi piaceva l'adrenalina Di seguire le notizie Di capire cosa stesse succedendo Di comprare il giornale La mattina in vacanza Perché ripeto Senza telefoni Senza social Non sapevi cosa fosse successo E di sognare Quell'acquisto Quindi questo Mi è sempre piaciuto tanto Io anche ho lo stesso ricordo Sul calcio mercato Soprattutto il periodo di giugno Luglio Che ti svegliavi proprio al mattino Per vedere sul giornale Nel buio trovavi qualcosa Qualcosa Quindi quello è cambiato Quindi immagino Che tu stesso Mai avresti immaginato In realtà Di fare questo tipo di lavoro No Tutt'altro Anche perché Quando ho iniziato Come ti ripeto La fortuna iniziale molto giovane Credevo di essere stato Già molto fortunato Nel poter avere la possibilità Di lavorare in una realtà Come Sky Quasi a 19 anni Tra i 20 19 e 20 È stata una cosa Che per me Sembrava quasi già un punto d'arrivo Come ti dicevo I social mi hanno fatto capire Che poi questo sistema Che in Italia Funzionava bene È stato inventato da Sky Ed è diventato Un punto di riferimento Poteva funzionare anche fuori Cioè se hai la possibilità Di parlare le lingue Se hai la possibilità Di portare questo modello Anche fuori I social erano il mezzo giusto Ma infatti Sopra vedendo Seguendoti anche Credo che Abbi anche cambiato tutto Quando hai iniziato E non so se sei partito Già così A fare i contenuti In inglese Cioè Tu parli a tutto Parli a tutto il mondo Quando tu fai i tuoi contenuti Sì Provo sempre a far questo Perché credo Come ti dicevo all'inizio Che il mercato sia globale Cioè tutte le persone Del calciomercato Siano interessate Anche alle altre squadre Allora credo che l'inglese Sia il mezzo Quasi obbligatorio Con cui andare a confrontarsi Conoscere anche Anche altre lingue importante E te lo dice uno Che non ho mai studiato In maniera approfondita Cioè io non ho mai fatto Un corso particolare L'inglese L'ho finito al liceo Lo spagnolo Il portoghese Calcistico Li parlo Perché parlo tutti i giorni Con le persone Che conosco ormai Da quasi 12 anni Ma è una cosa Che è evoluta dentro di me Perché ne sentivo la necessità E qui torno alla strada Io capivo lì Che se volevi fare il passo in più Dovevi metterti in gioco Credo che sia sempre un mix Tra la qualità del lavoro Che puoi fare Ma anche il tempo Nel mio caso Il tempo ha fatto veramente Le differenze Il tempo investito In questo Ogni singolo giorno Ogni singola estate Quando dico la strada Significa Calcola il calcio Mercato estivo È da inizio giugno Al 31 agosto Al primo settembre Tutti i giorni Tutti a Milano Tutti per strada Dalle 9-10 del mattino Fino a mezzanotte All'una Nella migliore delle ipotesi Tutti i giorni Più gennaio Sì che è anche una cosa Difficile da spiegare Cioè se uno Adesso capiterà Che tanti ragazzi Ti scrivano Come hai fatto Io vorrei Vorrei fare quello Che fai tu E tra l'altro Una figura come la tua Non esisteva neanche Un po' di anni fa Io l'ho sempre vista Non so Seguendo appunto Anche gli sport americani In NBA C'è Voj Che insomma Ci sono alcune figure Che ho visto negli anni Essere diventati Dei punti di riferimento Cioè che postavano le cose Prima ancora Che le postasse L'account della squadra O quant'altro In Italia Non avevo quasi mai Se non qualche eccezione Visto una figura Come la tua Che però A un certo punto Sembra essere Sbucata dal niente Cioè tu hai uno storico Fortissimo Però il tuo nome Almeno sull'Italia Magari è da un periodo Più piccolo Che si sente Sì Io credo che sia stata Come ti dicevo Una crescita regolare Dal punto di vista internazionale Anche poi sull'Italia È arrivata di riflesso Un po' Il fatto di parlare Praticamente soltanto in inglese Sui miei canali Non aiuta Da questo punto di vista Perché chiaramente Io continuo a lavorare In quel modo lì Però tu parlando così Cioè il tuo bacino È il mondo intero Se tu lo fai in italiano È solo l'Italia Io ti dico Che a volte Mi capita di andare In delle città E conoscere persone nuove Magari ero a Istanbul L'anno scorso Stavo parlando Con un brasiliano In portoghese Di un giocatore argentino Che andava a giocare in Italia In Turchia Cioè questa cosa Per me Questa internazionalità Diventa una cosa Proprio necessaria Se si vuole arrivare A un determinato livello Che poi è quello Che fa la differenza Anche per entrare in contatto Con tutti gli attori Di questo mondo Che molto spesso Sono anche giocatori Grazie ad Instagram No infatti Insomma le altre cose Che si sono visto Letta anche su di te L'amicizia proprio Con anche alcuni giocatori Insomma dei legami Che si sono instaurati Come fa un giocatore A diventare amico Di uno Che però in realtà Di mestiere Dà le soffiate Ma cose che in realtà Sono un po' segrete Con la credibilità Con la fiducia E con non farsi sentire Un giornalista Io ero con un giocatore Che gioca qui in Italia In una squadra importante Poco più di due mesi fa E mi diceva Guarda io non ho mai parlato Con un giornalista Prima d'oggi in vita mia Ma mi sento a mio agio Cioè sento che Non ci sarà mai un problema Dietro questa conversazione Ma sempre una soluzione Io credo che i social Abbiano cambiato il modo Di comunicare Se lo fai con qualità Nel senso che Mentre magari un giornale È obbligato A portare una notizia Per vendere quel giornale O lo stesso Per uno show In televisione la sera Hai bisogno di comunicare qualcosa In quello specifico momento Che sia la mattina O la sera In base al media Con i social non è così Io non sono obbligato A dare una notizia su di te Ogni giorno Io la darò Quando il giocatore Che si sente a suo agio Nel poter parlare con me Sente che è il momento giusto Il club lo stesso E il suo agente lo stesso Cioè diventa una comunicazione positiva Non è più il giornalista nemico Che ti crea un problema Ma è il giornalista nemico Che parla al momento giusto Quando vuoi Questa è una gran cosa E questa è una delle altre cose Che vedevo un po' in comune Pur facendo delle cose diverse Però anche mi sono reso conto Che abbiamo fatto a volte Delle conversazioni Con alcuni sportivi Perché gli sportivi Se tu li ascolti Eccetera Insomma Quando sono tra di loro E parlano tra di loro Vengono fuori delle cose Ed è stato forte Che venissero fuori Magari anche in alcune puntate Del basement Però io non sono un giornalista Quindi di base Cioè si scatena comunque Quel tipo di rapporto Tu in realtà lo sei Però questa è un po' La spiegazione Che ti sei dato E poi il contatto umano È fondamentale Cioè per me Tante persone dicono Ma tu d'estate Lavori tantissimo Poi cosa fai Gli altri mesi E in realtà Se negli altri mesi Semini Nel senso che io cerco Di andare in giro Più possibile Quando c'è la Champions League Ma anche in settimane normali Una volta sei a Barcellona Una volta sei a Madrid Una volta sei a Londra Sempre per conoscere persone nuove E ti dico Ho avuto la possibilità Per esempio Di conoscere di persona Tanti giocatori Ma con Erling Haaland Ho avuto il rapporto Sicuramente di amicizia Più stretto Tra i campioni Che ci sono oggi Perché con lui Abbiamo iniziato a scriverci Quando lui era in Norvegia Ma come è nata lì la cosa? Io stavo guardando una partita Della nazionale norvegese Under E c'era questo ragazzo biondo Che era una roba Di un altro pianeta Allora gli scrivo Dico A questo giocatore qui Per me arriva a livello molto alto E anche un po' di scouting Tu devi fare un po' di scouting Altrimenti Arrivi tardi sui giocatori È un po' come per gli agenti O per i club Lo stesso secondo me Deve fare anche un giornalista Cioè se tu vuoi arrivare Sul giocatore Devi sentire Che quel giocatore Può arrivare E con Erling Ho avuto una connessione Da subito Perché poi lui è stato molto Un ragazzo Gli scrivo cosa vuol dire? Su Instagram? Su Twitter era Su Twitter? Sì era Twitter E poi è diventato Instagram E lui ti ha risposto E lui mi ringrazia Perché ripeto Era un ragazzino Che quasi vedendo Quei primi followers miei Era magari un po' affascinato E da lì siamo rimasti in contatto E allora lì in Norvegia Poi al Salisburgo Dal Salisburgo al Borussia Dortmund Dal Borussia Dortmund Dal Manchester City Finché ci siamo conosciuti Anche poi di persona Ci siamo visti più volte E devo dire che Lui ha la stessa semplicità Dell'epoca Però è veramente Molto bello per me Poter vedere il livello Di fiducia Cioè sapendo perfettamente Che questa cosa Non andrà mai a intaccare Né il suo lavoro Nel mio In nessun modo Questo per me È la regola numero uno E questo rispetto Per me è una cosa Che diventa fondamentale Anche perché poi Il mondo del calcio È molto grande In globale Ma alla fine È anche molto piccolo Tutti si parlano Tra giocatori Tra dirigenti E quindi la reputazione Che ti crei Diventa il tuo biglietto Da visita Sì infatti Molte volte In tantissimi ambiti La gente pensa Che ci siano sempre dietro Chissà che cose Chissà che roba Eccetera Invece tante volte Sono veramente È molto più semplice Di quel che pensi Molto più semplice E anche a volte più difficile Da gestire Per questo motivo È molto difficile Guarda questo è il mio problema oggi Ti dico proprio la verità Il mio problema oggi Che tante volte Sai tante cose Molto grosse Prima E questo va gestito Per il bene del tuo amico Per il bene di un giocatore Per il bene di un club Per il bene di un dirigente Non si possono dire certe cose In certi momenti Questo diventa un problema Giornalistico Tu sei un detentore di segreti In qualche modo Questa cosa qui Non ti fa dormire a volte È vero Ti senti la responsabilità E non hai mai paura Che magari una cosa Esce fuori E la gente pensa Che sia stato Che l'abbia detto tu In realtà non l'hai detto tu No Può capitare Può capitare Però ti dico Di paure Da questi punti di vista Ce ne sono tante Cioè io convivo Sempre con l'ansia Della gestione Delle notizie E il mio problema vero È il dover essere sempre connesso Cioè questo è il vero problema Essere sempre al telefono Perché non sai mai Quello che può succedere Cioè l'estate scorsa Ricordo che ero a Parigi A vedere una partita Dal Paris Saint Germain La prima partita Luis Enrique Dall'allenatore del Paris Saint Germain Vado super volentieri Ma era in pieno calciomercato Quindi per me Spostarmi durante il calciomercato Significa che io Quelle ore di volo Magari se non funziona bene Il wifi sul volo Magari non c'è proprio Non posso controllare il telefono Ed è un grande problema Soprattutto d'estate Quindi al ritorno da Parigi La mattina dopo Avevo il volo alle 6 del mattino Per tornare alle 8 a Milano Perché so che di solito Nel mondo del calcio Da quell'ora Non succede niente Volo cancellato Aia E lì ho detto Ce n'è un altro alle 8 e mezza Io non prendo questo volo Se non c'è il wifi Ci sono stato lì a parlare Con questi del volo Se non c'è il wifi Che funziona bene Io non salgo qua sopra Perché c'era una trattativa Importante per un giocatore Caicedo doveva andare Tra Liverpool e Chelsea C'era questa guerra Tra i due club Io dico Io non posso perdermi Questa notizia Quindi piuttosto sto qua Sono rimasto in aeroporto Fino alle 2 Fermo a aspettare la notizia Alle 2 l'ho messa Alle 4 l'ho ripartito Vedi che uno non pensa Che dietro c'è tutto Questo sbattimento Diciamo che fa parte Diciamo del gioco Cioè diciamo È una cosa che tu Chiaramente hai accettato E che accetti Diciamo Fino a quando riuscirai A gestirla In qualche modo Sì certo certo Nel senso Fa parte della mia vita Io ormai non ci penso neanche più Cioè chi mi sta attorno Sa che la mia vita È questa qui Quindi ringrazio i miei amici Che hanno pazienza Perché altrimenti In certi casi Diventa un po' Diventa un po' complicato A volte magari sei fuori Al telefono per 40 minuti Ci credo Purtroppo E poi di una squadra Sono con Alland Che mi sta chiedendo Esatto O per dirne uno O per dirne uno a caso Però insomma È un percorso Ci si arriva E tu dicevi A 19 anni Hai avuto la fortuna Di entrare a lavorare In un mondo Come quello di Sky Che per un ragazzo appassionato Di sport È il paese dei balocchi No da quel punto di vista Assolutamente Io devo tantissimo Con l'esperienza lì Perché a me ha insegnato Innanzitutto circondato Da Tanto appunto 2000 hai detto 2009 Era 2012 Era lì Tra il 2012 E il 2013 Io mi trasferisco a Milano 2011 E nel 2012 Sono entrato a Sky Quindi comunque Degli anni anche Abbastanza importanti Sì Sì Importanti Con mondiali Con competizioni importanti Però io lì Ho capito Che volevo davvero far questo Ho capito Che non mi piaceva La vita di redazione Cioè io inizio in redazione Chiaramente entrando Con uno stage Ma lì mi succede una cosa Che mi fa capire Che il mio destino Era il calciomercato Ed era la strada Cioè che la notizia Che a me cambia Veramente la vita La prima notizia Era la mia vita È su Mauro Riccardi Mauro era Al Barcellona Nelle giovani Del Barça Era un ragazzino Come tanti Ripeto parlo di un'epoca In cui non è come oggi Che si sa tutto Dei giovani Li puoi vedere Con due click Vedere come gioca Come non gioca Parlo di 12 anni fa Io ero ancora al liceo In quel momento lì E mi contatta un ragazzo Che ancora oggi Io non so come abbia avuto Il mio numero Ma un ragazzo italiano Che vive a Barcellona E lavorava nel bar A fianco Al centro sportivo Dei giovani del Barça Dove si allenavano Questi ragazzi del Barça E questo ragazzo Che oggi fa il procuratore Mi fa Io voglio fare la gente Io voglio fare la gente Mi sto avvicinando tanto Di questi due giocatori Uno era Gerardo Eulofeu Che ha fatto comunque La grande carriera Barcellona, Milan E tante altre E l'altro era Mauro Icardi Mi dice per favore So che scrivi su questo sito Piccolino Non è che fosse Chissà che cosa Ma puoi fare un articolo Su questi due giocatori Spiegando semplicemente Chi sono Come giocano Uno fa l'attaccante L'altro fa l'esterno Con queste caratteristiche E io Li faccio vedere a loro Così li faccio vedere Che comunque ho qualche contatto Che mi sto avvicinando Ah cioè quindi Lui te lo chiedeva In modo che lui potesse Poi far vedere Questa cosa Esatto Per avvicinarsi a loro Faccio questa cosa Anche perché ti ripeto Non avevo né strumenti Né esperienza Né niente da perdere Sì sì Lo fai E da lì lui si avvicina molto A Mauro Icardi In particolare Inizia a lavorare Con la gente di Mauro Icardi Quindi Prende piede questa cosa Icardi va Prima dal Barcellona Alla Sampdoria Ed è stata una delle mie prime notizie Però ripeto Piccoline Nel senso che Non capivo neanche la situazione Sinceramente Essendo molto piccolo Per essere una tua notizia Cosa vuol dire Che è una tua notizia Che nessun altro Ha mai menzionato Quella trattativa Prima di te Cioè In tutto il mondo Ok Per me è la sensazione Più bella che possa esserci Però in quell'anno lì Dove la fai questa cosa? A casa A Napoli Su un piccolo sito Su cui lavoravo Molto piccolo Quindi tu dai questa notizia Su questo sito La parte della Sampdoria Esatto Poi Icardi va alla Sampdoria Fa benissimo E lì passa all'Inter Cosa succede Che lui a novembre Mi fa una telefonata Questa è una trattativa Che si chiuderà in estate Quindi passano mesi Ma lui a novembre Mi fa una telefonata Oggi ti dico A novembre Che Icardi Andrà a giocare all'Inter Tu leggerai della Juve Del Milan Del Napoli La Roma Lo vogliono tutti Ma Icardi Fidati Va all'Inter Per cui inizi a dire da oggi Icardi andrà all'Inter Ci si è stretti la mano Con Moratti Sarà il suo ultimo acquisto Poi venderà il club Mauri Icardi va all'Inter Io da quel giorno Inizio a scrivere Su questo sito piccolino Icardi all'Inter Icardi all'Inter Tutti i giorni Ero sicuro Perché mi fidavo di lui Anche perché non avevo Ripeto Niente da perdere E Icardi va all'Inter Icardi va all'Inter E io entro a Sky Il primo giorno E la prima cosa che mi dicono Dopo aver firmato il contratto Dopo dieci minuti Da stagista Era una sostituzione estiva Per favore Dovresti andare A cercare Icardi In giro a Milano E vedere se riesce a beccare Le sue prime immagini Da giocatore dell'Inter Io conoscevo lui Lo becco facilmente Perché mi aiuta Questo mio amico Io rientro in redazione Il primo giorno Con Mauro Icardi In esclusiva Intervista Sul l'Inter Allora ho detto Io devo far questo Io non devo stare qua dentro Ma io voglio andare per strada Ma lasciatemi come un cane Sciolto per strada A me piace questo Ma anche perché A parte la figata Dell'avere Insomma tu ho fatto una cosa bella Per qualcuno E qualcuno che te la riconosce Ti fa una cosa del genere E quindi tu a Sky Non ti hanno preso Per questa cosa qua 2012 No 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 Non sapevano di questa cosa No io lì Sono avuto la possibilità Di avere questa opportunità Anche grazie a Gianluca Di Marzio Che poi questo mestiere L'ha praticamente fatto In questo modo Infatti quando prima Parlavo esattamente Di un'altra persona Che lo faceva Sempre il nome E io ho iniziato A collaborare con lui Io mentre lavoravo Su questo sito piccolino Mi avvicino a Gianluca Gli scrivo una mail Di notte anche lì Io ho questa mania della notte La notte è il mio rifugio Dove nessuno mi chiama E quindi metto in ordine Le mie cose E lì da quella mail Inizio a collaborare con Gianluca E dopo un anno di collaborazione Sul suo sito Che era appena aperto Quindi abbiamo avuto La possibilità di fare Questa palestra Da lì poi Con Sky Ho avuto la possibilità Di entrare nella squadra Del calciomercato Chiaramente da ultima ruota Come è giusto che sia Insomma quelle da lì Però ho avuto la possibilità Di capire cosa mi piacesse di più E non ho avuto dubbi Dopo quell'episodio Quando il tuo contatto Diciamo da quello Che poi ha fatto il procuratore Ti diceva Icardi va all'inter Lui te lo diceva Consapevole Che tu poi ne avresti potuto parlare Tu parlane tranquillamente Era straconvinto lui E voleva darmi qualcosa In cambio Dal punto di vista proprio umano Io percepivo Che lui volesse farmi Veramente un regalo Come io posso aver aiutato lui In un momento magari delicato La sua vita E quali erano le reazioni Della gente Quando tu in quel periodo Scrivevi questa cosa Era novembre E calcola che nel mercato di gennaio Nella finestra di calcio mercato di gennaio Si parlava tantissimo Juve Roma Napoli Il Napoli era molto vicino A prendere Icardi Tutte queste squadre Hanno provato a inserirsi Io continuavo sulla mia strada Dritto Perché ero convinto Della mia fonte E lì tante persone Mettevano in dubbio Questo ragazzino Che magari continuava a dire Icardi all'inter Icardi all'inter E io lì ero Al 100% convinto Quindi Tante reazioni dopo Quando lui firma all'inter Sono state Allora qualcosa Evidentemente Poteva sapere In più degli altri E a me quella storia Ha fatto capire Ma sarà soprattutto Una reazione personale Capire che io volevo Seguire quella strada lì E scusami Tu entri quindi a Sky E praticamente Dopo quanto ne esci? Ne esco in realtà Da pochi anni Perché poi siamo sempre rimasti In collaborazione esterna Però lì ti è rimesso Per i fatti tuoi Non in redazione Ma hai dovuto Che Cosa è successo? Io ho fatto tanti anni a Sky Sempre legato al calcio mercato Ok Cioè io lavoravo per Sky Durante il calcio mercato I tre mesi estivi Più gennaio Poi tutto questo Era fatto per strada Cioè che io ho scelto Una collaborazione esterna Finché a un certo punto Loro mi hanno proposto La possibilità di avere Un contratto Vero, reale Da redazione Una cosa a lungo termine Quindi anche molto interessante Soprattutto a 21-22 anni Ne stavo compiando 22 Quindi era un'opportunità grande Dopo due-tre anni Lì a Sky Da esterno E la mia scelta è stata No Preferisco lavorare da esterno Avere un contratto Slegato da vincoli E prendere la mia strada Perché sentivo che Qualcosa stava cambiando Dal punto di vista La comunicazione in generale Non legata a Sky Ma legata ai social Io sentivo Che i social erano il futuro Anche perché Sarebbero stati il futuro Anche perché Ogni volta che utilizzavo Twitter Che è stato il social Che a me ha cambiato la vita Veramente Più degli altri Che poi sono arrivati Di conseguenza Vedevo che l'impatto Di una notizia In inglese Era devastante E allora lì C'era troppo spazio Per poterlo Lasciar perdere Tanti mi dicevano Sai sei già a Sky Hai 21-22 anni Sei nel posto migliore Che ci può essere Per questo lavoro In Italia Perché perdi tempo Su Twitter Quando può essere Magari il weekend Goditelo Per me invece Era proprio l'America Potevo scoprire l'America Utilizzando i social Utilizzando un metodo Che in Italia Già funzionava bene E poi era roba tua C'è anche questo Questo riscontro In qualche modo Poi tu facevi questa cosa Per te E oggettivamente Poi Insomma il mondo È andato un po' In quella direzione Non si vede da tante cose Anche il fatto di pensare Anche una cosa Che cerco di fare sempre Cioè ti rendi conto Che se tu metti Una cosa online La dai al mondo intero Assolutamente Mentre se tu ovviamente La metti in tv In radio In tante altre cose Sei chiaramente in Italia Chiaro Però questo ti apre Totalmente il modo di pensare Sì e a me C'è stato un episodio Che l'ho fatto capire Poi in particolare Che è stato quello Che ha iniziato La mia collaborazione Con il Guardian Che per me è stata fondamentale Anche per avere Credibilità internazionale Un giornale come il Guardian Chiaramente In automatico Conferisce credibilità Ma anche a me È servita per capire Che quella era la strada Davvero che volevo prendere Quella dell'internazionalità Dell'inglese Che ripeto Non conoscevo così bene Quindi di investire Su questa cosa Nonostante non fossero Le mie armi migliori Un giorno io scrivo Una notizia Su Stefan Jovetic Che giocava al Manchester City Il Manchester City Era in ritiro in Australia In ritiro estivo in Australia E io scrivo Che sarebbe andato a giocare In questo caso all'Inter Lui era stato alla Fiorentina In passato Torna in Italia Va all'Inter Mi scrive su Twitter Un giornalista Caporedattore del Guardian Un messaggio in privato Che per me era già emozionante Nel senso Non avevo mai avuto contatti Con giornali così grandi All'estero E mi dice Guarda io sono qua In Australia Con il Manchester City Con i giocatori Con l'addetto stampa Che mi sta parlando Di questa situazione Mi giurano che Jovetic Non va da nessuna parte Rimane al Manchester City Io dico guarda Di solito noi facciamo mercato In un altro modo Se aspetti l'ufficio stampa In Italia è molto difficile Che ti arrivi qualcosa Magari chi è vicino al giocatore O al club Può darti una mano In un modo diverso Per me Jovetic va all'Inter Lui mi fa Guarda io sono talmente sconvolto Da questa cosa Che qui mi giurano Che il giocatore non va via Che se Jovetic va all'Inter Voglio che inizi a collaborare con noi Io ho detto Va bene Facciamo questo gioco Tre giorni dopo Era Milano con la maglietta Allora lì ho detto Ho detto C'è veramente l'America di là Se riesci a portare Le tre caravelle Nel momento giusto La scopri Perché lì non hanno idea Di come lavoriamo noi Cioè Ripeto Un modello inventato Secondo me da Skype E chiaramente era fatto anche prima Ma il modo ossessivo di farlo Di entrare nel dettaglio Si poteva far evolvere Anche in un'altra lingua Anche in un altro modo Cioè per noi intendi l'Italia Cioè su questa cosa Noi siamo più forti di tutti Assolutamente sì Assolutamente sì Abbiamo inventato Un modo di fare calciomercato Che adesso fanno tutti Mentre prima il calciomercato Quando io ho iniziato 12 anni fa Era In Inghilterra Lo scoop Era lo scoop Sul giocatore che va in discoteca Sì Sulla moglie che crea confusione Sul giocatore che ha fatto Una cosa sbagliata Verso la famiglia Questo tipo di scoop qui Dopo è diventato Il calciomercato Che è una cosa che loro Quasi non gestivano Loro pubblicavano notizie All'ufficialità Soprattutto in Inghilterra Ma anche in altri paesi Solo la Spagna Era un po' simile a noi Ma non a questo livello Di ossessione per i dettagli Noi abbiamo fatto diventare Questa macchina Una macchina che funziona Tutti i giorni Non soltanto l'ultima settimana Di agosto Ma ogni giorno La gente ti chiede qualcosa Per una trattativa Che magari si verificherà Tra sette mesi Però c'è un'ossessione E quindi una cura del dettaglio E quindi un lavoro quotidiano Che prima non esisteva E che oggi fanno tutti I tedeschi non avevano Il calciomercato Si aspettava il comunicato Del club Ma ti parlo di cinque anni fa Oggi fanno trasmissioni intere Di calciomercato Sul buyer A volte le notizie Del calciomercato Cioè il calciomercato È quasi più seguito Del campionato stesso Negli ultimi anni magari Guarda tante volte Vedo veramente Le persone più felici Per un acquisto Che per la squadra Che vince un trofeo Sì questo è incredibile Sì no È stato un po' È stato un po' particolare Ma quando tu intendevi Non so Che collabori no Che collabori con le varie realtà Loro non ti vedono Come un competitor Quando tu inizi a essere Fabrizio Romano Quindi un media Cioè tu stesso Sei un media in qualche modo Oggi infatti sinceramente Sono cose molto limitate Sono pochissime Per questo motivo qui Che dicevi tu Però per me sono state Comunque collaborazioni Il Guardian in Inghilterra La CBS negli Stati Uniti Sky per tanti anni in Italia Sono state collaborazioni fondamentali Per insomma Migliorare Stare a fianco di tante persone Che ti fanno imparare Perché veramente Non si smette mai Di capire un dettaglio in più Un modo di fare questo lavoro In maniera diversa e migliore Però oggi sì Oggi Io preferisco lavorare Completamente da solo Nonostante Possa avere delle possibilità Di collaborare Però ci tengo tanto E sono quasi geloso Del mio ambiente Nel senso che mi piace Mantenere i miei ritmi Non avere nessuno Che mi dica Cosa devo fare Ma non perché a me Piaccia fare Quello che voglio Ma semplicemente perché Conosco me stesso Che credo sia Un passaggio fondamentale Per riuscire Oggi sui social A funzionare Conoscere se stessi E conosco Sia i momenti In cui voglio dare Il 300% Sia i momenti In cui voglio gestire Questa cosa Quindi è importante Per me non avere Nessuno che mi dica Ah oggi perché Non fai questo Perché so io Quando è il momento giusto E per me Questo meccanismo Diventa cruciale Diventa Cioè mentre quello Che ti raccontavo Prima Che possa essere Icardi Che possa essere Tra Iovetic O altre trattative Erano periodi In cui io mi focalizzavo Sull'Italia E ci potevano essere Dei punti di contatto Con l'estero Perché chiaramente Alcuni giocatori Arrivavano Andavano all'estero Poi dopo Con la trattativa Di Bruno Fernandez Centrocampista Allo Sporting Che va al Manchester United Io capisco che La mia priorità Doveva essere l'estero Anche più dell'Italia Cioè che chiaramente L'Italia fa parte Di questo mondo Su cui lavoro Ma non poteva essere L'unico o il centro Ma doveva essere Uno dei mondi Su cui lavorare Perché Bruno Fernandez Passa al Manchester United Dallo Sporting In un mercato invernale Di gennaio E io ricordo Che questa notizia In Italia Quando io continuavo Ad insistere Il mercato in Italia Stava chiudendo Non c'era niente Non c'era nessuna Trattativa importante Il mercato di gennaio Storicamente Molto tranquillo E io insistevo Su questa notizia Mentre lavoravo in Italia Dicevo Bruno Fernandez Va al Manchester United È una cosa importante Il Manchester United È un grande giocatore E non venivo quasi considerato Allora lì ho detto Vabbè ci lavoro da solo Il suo procuratore Mi manda una foto Sull'aereo Con il giocatore Partendo per Manchester Questa foto in Inghilterra Esplode in maniera incredibile Una foto esclusiva Finalmente Bruno Parte in aereo Con il procuratore Per firmare Mentre qua non ti filavano Per questa cosa Non interessava nessuno Qui era più importante Pensare soltanto Al mercato italiano E ti ripeto Non è che ci fosse cacà al Milan Sì sì C'erano cose piccoline Con tutto il rispetto E da lì ho detto Ok Io da oggi Il mio focus È il calcio estero E lì il covid 2020 Mi aiuta a capire Che io devo investire Su me stesso Con il calcio estero E questo investimento In che cosa consiste? Consiste nel tagliare Le collaborazioni Classiche Che avevo Sì Italiane E anche altre Che avevo all'estero Non avere più La necessità Di dover collaborare Con qualcuno Che ti dà Un'indicazione Di cosa fare E qui c'è un altro episodio Che mi ha fatto capire tanto E cioè una volta Devo fare una diretta con Sky E devo parlare del Parma E ripeto con tutto il rispetto Al mondo Tra l'altro è un club Che amo Ma era in serie B E mi chiedevano un punto Della situazione sul Parma Che io faccio Mezz'ora di diretta Sul Parma Per spiegare un po' Come sarebbe stato il Parma Del futuro Quali erano i progetti Vado in diretta Parlo per mezz'ora Di questa cosa qui Finisco la diretta Guardo il telefono E c'erano Dieci chiamate Di una persona All'interno Della trattativa Per Harry Kane Al Manchester City Doveva andare a giocare Al Manchester City Dieci chiamate perse Allora io ho detto Che è successo qualcosa Lo chiamo Mi fa guarda Volevo darti l'esclusiva Che Harry domani Non vada a allenarsi Col Tottenham Perché forzerà l'uscita Per andare al Manchester City Stiamo provando in tutti i modi Però non mi ha risposto Per mezz'ora La notizia è andata In Inghilterra Da un'altra parte Io ho detto Ok Devo concentrarmi su altro Il mio focus Deve essere altro Cioè io devo pensare Solo e soltanto All'estero Come priorità assoluta E allora da lì in poi Ho preso Ho preso quella strada Di dire grazie A tutte le collaborazioni Che ho avuto Grazie davvero Non puoi dire Perché se no non sarei minimamente Né seduto qui Né in altri posti Ma dovevo focalizzarmi Solo e soltanto Sulle mie cose Sull'estero E mantenere io La bussola delle notizie Perché altrimenti Se la mantiene qualcun altro Non ha la stessa percezione Che puoi avere Lavorandoci 24 ore su 24 E poi insomma Questa scelta ha pagato Perché insomma Negli ultimi anni Sono successe delle cose Incredibili Ho visto che recentemente Hai anche ritirato un premio Più di uno Mi sembra Negli ultimi Sì il Globe Soccer Sì a Dubai Due volte È stata Una grande soddisfazione Ti dico Più che per me stesso Perché poi io penso Che la soddisfazione Più grande per un giornalista Siano sempre le notizie Al di là dei premi Perché alcune te le ricordi E ti rimangono Per tutta la vita Però mi fa piacere Ogni tanto avere Qualche soddisfazione Tradizionale come questa Soprattutto per la mia famiglia Perché ti dico Mia mamma e mio papà Non capiscono quasi neanche Che stia succedendo Però quando gli fai vedere Che torni a casa col premio Ha preso a Dubai Qualcosa sta andando bene E lì che cos'era Un premio al giornalismo sportivo Giornalista dell'anno sportivo Beh cazzo Tanto eri lì in mezzo A tanti altri giocatori In quel caso lì Sì è stato premiato Cristiano Ronaldo Haaland C'era tutto il Manchester City Come squadra dell'anno Insomma Una cosa molto E loro con te hanno sempre Questo rapporto Adesso ti dico Di amicizia Non hanno quel timore Ti dico chi più chi meno Chiaramente Però è come una classe A scuola C'è il miglior amico C'è quello con cui Non ti guardi in faccia Chiaramente fa parte della vita Non solo del lavoro Però ti dico In linea di massima Sì Però tu non hai mai fatto Torti a nessuno Con le tue notizie Guarda Piuttosto preferisco Perdere una notizia E mi è successo Mi è successo Di avere notizie importanti Ed averla data magari Il giorno dopo Perché non potevo Fare un dispetto A un mio amico E per me questo rimane La regola numero uno Ma non solo del lavoro Anche della vita E rispetto al primo posto Per cui per me Anche perché Se no non rimane In questo mondo A lungo termine Nel mondo del mercato Altrimenti Appena fai il primo dispetto Diventa un problema Non solo per te Ma anche per tutti gli altri Che lo sanno E lì a lungo termine Non ci rimani Però il rapporto È fondamentale No no Quello è fondamentale A proposito di rapporto Come ha vissuto Questa è una mia curiosità Il non so Gianluca Di Marzo Con cui hai lavorato All'inizio Poi il fatto Che tu ti sia messo Per i fatti tuoi Ha vissuto come? Ma guarda Io ho un rispetto Veramente immenso Perché come ti dicevo prima Ho iniziato Guardandolo in televisione Ho continuato Imparando sul suo sito E sono arrivato A diventare Quello che posso essere oggi Grazie a chi mi ha insegnato Questa cosa Cioè Gianluca Anche Luca Marchetti A Sky Sono tutte persone Che hanno inventato Il calciomercato Fatto in questo modo E quindi da parte mia C'è una gratitudine totale Credo ci sia Proprio Un'evidenza Nel fatto che Si vedano cose differenti I modi di fare questo lavoro In maniera differente Io ho sempre Solo rispetto e stima Non credo che Non vi pestate i piedi Ecco No io non credo Che sia mai una competizione Anche perché sinceramente Se avessi la presunzione Di pensare Di arrivare su tutte le notizie Di tutto il mondo Per primo Sarebbe complicato E sempre Grande elasticità Secondo me Capire che non si può Sempre essere Il primo Però lì è tutto un gioco Di fonti In qualche modo Che è l'altra cosa Molto affascinante Del tuo lavoro Cioè è tutto un gioco Di fonti Cioè avere delle persone Che in qualche modo Ti fanno avere Delle notizie In anteprima Cioè loro lo fanno Quando te lo dicono Proprio perché sanno Che poi tu ci farai la notizia Sì Possono essere veramente Di ogni tipo Allora tante persone Immaginano che la fonte Spesso possa essere Il giocatore in sé Che può capitare Spesso soprattutto ultimamente Nel senso che con Instagram Chiaramente questa cosa Diventa più facile Ma per anni Sono state persone Inimmaginabili Cioè veramente persone Inimmaginabili C'era la fidanzata Di un mio amico a Londra Che quando un giocatore Inglese doveva andare A giocare al Milan Mi ha chiamato E mi ha detto Guarda la mia coinquilina Vive nello stesso palazzo Sta facendo le valigie E lui l'incontrata E gli ha detto Vado a giocare a Milano Vedi tu dove va Non so neanche Che posizione giochi Era un difensore centrale Il Milan cercava Il difensore centrale Fai 2 più 2 Chiami una persona Verifichi Notizia vera Lì esclusiva Il Milan Prende questo giocatore A caso C'è dalla coinquilina Della fidanzata Di un mio amico Per cui capisci Che se poi diventi Un punto di riferimento Le persone hanno quasi Questo gioco Questa goduria Nel dirti qualcosa Nel vedere che poi Da quello è scaturito qualcosa Per dirti La notizia più importante Della mia vita Che è stata Il cambio di allenatore Del Bayern Monaco Un anno fa Di questi tempi A marzo Hanno mandato via Nagelsmann Che sta facendo benissimo C'era una cosa Completamente inaspettata Il Bayern volava In Champions League Volava in campionato Era in primo In tutte le competizioni Manda via l'allenatore E ne prende un altro Dal nulla Prende Thomas Tuchel Questa notizia Mi è arrivata Da una persona Che tutti in Germania Stanno ancora provando A capire chi è Perché ci sono articoli Interi contro di me Di leggende del Bayern Che dicono Com'è possibile Matteus L'ex Inter Che ha detto Non capisco come sia possibile Che un ragazzo italiano Sappia prima dei dirigenti Del Bayern Che questa notizia Venga fuori Cioè È stato un po' uno scandalo Quindi si crea un po' Di discussioni Di dibattito Lì si è creato Un casino incredibile Perché lì La storia di Tuchel E Nagelsmann È che praticamente Il Bayern decide Di mandare via A Nagelsmann Era durante l'international break A marzo Quindi c'erano le nazionali Un periodo solitamente Molto tranquillo Non succede mai nulla Ripeto Il Bayern stava andando benissimo Per cui non era nell'aria A me chiama una persona Che piuttosto che dire chi è Mi possa fucilare Anche perché sennò Fucilano lui Ma mi chiama una persona E mi dice Guarda Domani Tuchel Al Bayern Nagelsmann va via Io ho detto Ci sentiamo con calma Perché in questo momento Mi sembra Estemporaneo Sarà una cosa che dici Per l'estate Magari In marzo Mi fa no no Domani Domani si fa questa cosa Muoviti Veloce Perché altrimenti Viene fuori da un'altra parte In questo momento Cosa provi dentro di te No un'adrenalina E questo è il vero Capito Più del premio Per me il premio è fantastico Grazie Ma questo per me È una sensazione Che è come far gol In finale di Champions Cioè lui ti dice questa cosa E tu dentro inizi a Ci può essere chiunque Intorno a te Tu non capisci più nulla Diventa un fantasme Cioè veramente Non conta né dove Né come Né quando Né con chi Sei soltanto tu Nel mondo E lì devi essere perfetto Però nella gestione Perché quando ti chiamano Poi devi verificarle le notizie Altrimenti credibilità Certo Puoi non averne Allora Inizio a chiamare La cosa strana è che Chiamo il Bayern E non mi rispondono Per verificare le notizie All'atto club Non mi rispondono Chiamo anche l'atto Degli agenti Dei giocatori Non mi risponde nessuno Molto strano Perché di solito Comunque sai Una risposta la ottieni sempre Se una cosa non è vera No Mando messaggi Visto che non rispondevano a chiamate Zero risposte Bene Chiamo un'altra persona Che però sapeva tanto Di queste cose Ti ho talmente rispetto Per il fatto che tu Un venerdì Durante la sosta Che tutti sono al mare Sei qui E mi dici Che sai questa cosa Che a te lo posso dire È vero Mettila Perché è tutto vero Mi fidavo tantissimo di lui Scrivo la notizia Esclusiva Va via l'allenatore Ne prendo un altro E mi chiamano tutti Tutti quelli del Bayern Furibondi con me Perché non avevano ancora avvisato L'allenatore che lo mandava via Ah Quindi tu Hai dato due notizie Cioè hai dato anche a lui Non avevano ancora avvisato Lui farà un'intervista Il giorno dopo Dicendo io ero in montagna Con la mia compagna E non sapevo Ho letto sui social Ho letto sull'account Di Fabrizio Che mi stava mandando via E allora lì è diventato Un problema Capito Quando ti dico che per me Il problema è gestirle Però io non potevo più aspettare Ho aspettato un'ora Ho chiamato tutti Infatti la prima reazione È stata di rabbia Cioè tante di queste persone Che ho coinvolto Mi hanno detto Ah ma no Ma perché hai messo questa cosa Ti dico che poi dopo Il giorno dopo E dai giorni successivi Ho ricevuto le chiamate più belle Della mia carriera Dal buyer Dicendomi Apprezzo che tu Nonostante sapessi Che questa cosa era vera Mi hai chiamato dieci volte Mi hai mandato due messaggi Hai provato in tutti i modi Poi se non ti ho risposto Ho sbagliato io Lì ho apprezzato tantissimo E alla fine Ne vengono fuori Le migliori amicizie Perché quando c'è il rispetto Alla fine porti sempre a casa Una grande amicizia Mazza Questa tosta E questa hai detto Che è quella La notizia Una delle mie preferite Una Una Sì Beh questa c'ha tante storie dentro Una sola storia Questa sì Molto bella No è una sensazione Che è veramente difficile spiegare No capisco Nel senso che deve essere proprio Senti quel brivido dentro Quell'adrenalina Soprattutto quando nessuno Te l'aspetta Ti senti di avere in mano Veramente una roba potente Che poi nel tuo ambito In quel caso lì Lo è davvero Sì C'è qualche volta Che hai rischiato Cioè che sei andato Cioè hai detto Io rischio Non sono sicuro al 100% Ma rischio Perché mi sento che è così Qualche volta sì Qualche volta sì Però la sensazione Deve essere sempre supportata Dal fatto che comunque Chi ti sta dicendo la notizia È una persona credibile Quindi magari il rischio È il fatto che tu Non l'abbia verificata Due, tre, quattro volte Come magari puoi fare Quando ci sono cose Molto grandi Però se è una persona credibile Io in certi casi Se mi fido veramente Tanto di una sola persona Scelgo di rischiare Un po' sui tempi Pur di anticipare Ed essere il primo Cioè una delle notizie mie preferite Per dinamica È stata una che spiega Anche perché poi la mia vita Possa essere bella Sui social È bella sotto tanti punti di vista Non mi lamento Ma anche sotto certi altri Complicata da gestire Nella quotidianità C'era la finale D'Europa League Tra Villareale E Manchester United Di ora in Sardegna Con dei miei amici Stavano giocando a calcetto Noi durante il primo tempo Poi avremmo visto Il secondo insieme Diciamo bene Facciamo questo calcetto In Sardegna Tranquillissimi Ripeto C'è una partita C'è una finale D'Europa League Ti auguri che in quel momento Lì non succeda Siamo tutti concentrativi Della partita Del calcio Durante determinate partite Non succede nulla Noi stiamo giocando a calcetto Per il primo tempo Finché la palla finisce fuori A un certo punto Nel parcheggio Qui non stavano giocando Finisce questo pallone lì Io guardo il telefono Al volo E trovo Una mia fonte Che mi dice Domani Zidane Lascia Real Madrid Ha comunicato ai giocatori Che va via da Real Madrid Domani mattina Parla col presidente È fuori Sai Lì era impossibile verificare Perché Real Madrid È un club molto difficile Zidane è una persona Molto particolare Che non ama molto Il rapporto con la stampa Però io mi fidavo tantissimo Di chi me lo stava dicendo E questa persona mi dice C'è un messaggio Nella chat Del Real Madrid Che dice questa cosa qui Quindi fidati 100% È garantito Io lì sinceramente Ho detto Prima di tutto Magari se avessi aspettato Se questa palla Non fosse mai finita fuori Non avrei avuto la notizia Perché Non sareste noto a vedere il telefono Andava qualcun altro Perché poi il timing È fondamentale Io lì In due secondi Lascio subito il campo Li lascio con l'uomo in meno Vado li metto al telefono Chiamo due o tre persone Non mi rispondono Perché c'era la partita Tutto il resto Però mi fidavo talmente Tanto di questa cosa Di questa persona Che ho detto Ok vado Dopo dieci minuti Tutta la stampa spagnola Ha confermato la cosa Quella è stata una sensazione Incredibile Perché È Zidane Perché È Real Madrid Cioè sono due cose Talmente grandi Che io in quel momento Mi sono fermato Ho detto Qui si sta parlando Di un altro livello Cioè renditi conto Che essere il primo A dire una cosa Su Zinedine Zidane Che per me Nell'età che ho io È stato uno dei miti È il Real Madrid Che è il mito dei club È stato un qualcosa Che mi ha messo i brividi Sì Quella sì Questa è bella pesante Sì anche perché Poi se la sbagli Se il giorno dopo Real Madrid Dice non Zidane Rimane qua Ti è mai capitato Di avere una Contradizione Sì sì Mi è capitato Perché penso che Un vero passaggio Si sia fatto negli ultimi anni Con l'educare le persone Nel capire Che poi i contratti Non li firmiamo noi giornalisti Io Nessun altro Per cui il nostro lavoro È raccontare Cosa sta succedendo In questo momento Poi chiaramente Devi fare un racconto Realistico Credibile Non devi mai fare un racconto Che possa andare oltre Le aspettative Quindi io ti sto dicendo oggi Che Zidane ha deciso di andare via Se domani cambia idea Non decido io In quel caso lì Ripeto Ero sicuro Mi è capitato altre volte Soprattutto con i giocatori free agent Che sono i più pericolosi Ti faccio l'esempio di Wijnaldum Centrocampista Che poi è andato alla Roma Che era Veramente a un passo Andare al Barcellona Lui all'accordo con il Barcellona Firma un precontratto Da free agent Prenota le visite mediche Il giorno dopo Un ritiro dell'Olanda Cioè È proprio un passaggio Solitamente formale Alle tre di notte Il Paris Saint Germain Invece dei tre milioni e mezzo Del Barcellona Gliene offre otto All'anno Lui la mattina dopo si sveglia Dice Signori non vengo più a Barcellona Vado a Parigi Sai che ce ne sono otto Mica scemo Giustamente E lì Tanti mi hanno detto Ah ma tu avevi detto Che era fatta al Barcellona Dico sì Ma lo era Ve lo confermerà lui Farà un'intervista Un giorno Non lo dirà Per me L'importante è educare le persone A capire Che non sempre le cose vanno Come si può essere detto In un momento Perché E quali sono quelle cose Invece che ti fanno Perdere la credibilità Secondo te Secondo me ti fa perdere La credibilità Anticipare i tempi Volendo forzare notizie A tutti i costi Come in tanti per esempio Hanno fatto su un Bappé A Real Madrid Due anni fa Due anni fa Quando un Bappé è stato Veramente attanto così Dal diventare un giocatore A Real Madrid Tanti hanno detto Affirmato a Real Madrid Perché sembrava Un passaggio esclusivamente formale Non lo era Perché quando ci sono Giocatori del genere Club del genere Cifre del genere Tutto può saltare Veramente Agli ultimi secondi Quando ci sono Influenza del genere In quel caso Lì parliamo del presidente Francese Macron Che chiama Mbappé Coinvolge la famiglia di Mbappé In questa scelta Di restare in Francia Di restare a Parigi Diventano equilibri Molto delicati Su cui bisogna stare attenti Tu perdi credibilità Nel momento in cui Dici che qualcosa È firmato Quando non lo è Quello è il passaggio chiave Quello è quello Andare oltre Che dicevi prima Lì tanti Si buttano su quel dettaglio Magari per provare ad arrivare prima Quando può in realtà Molte volte Può essere quello Che ti frega In fondo Quindi la credibilità È raccontare Quello che sta succedendo Senza mai avere la presunzione Nonostante i followers La credibilità L'amicizia Con i giocatori Quello che vuoi Di poter controllare le cose Perché non decide Né Fabrizio Né nessun altro giornalista Dove va un giocatore Quando firma il contratto O se la moglie Durante la notte Decide di dire no Rimaniamo qua Perché la nostra famiglia Sta meglio in questa città Piuttosto che un'altra È una cosa che succede C'è tutta la libertà di fare Perché ci sono veramente Un sacco di dinamiche Che una persona Non riesce Magari tante volte a concepire Per persone Intendo il pubblico Che segue Come ti vede il pubblico Secondo te Ti sei fatto un'idea Rispetto ai commenti Le cose che ricevi Sì ti dico No Ho un feeling molto positivo Perché tante persone apprezzano Soprattutto la mole di lavoro Oltre alla qualità Comunque il fatto Che tutti i giorni Si sia sul pezzo È una cosa che Tante persone Veramente apprezzano tanto Poi La parte difficile oggi per me Con questi numeri qua È Come ti dicevo Gestire le notizie Ad esempio Io sapevo che Messi Avrebbe vinto il pallone d'oro Nonostante in tanti pensavano Non vincesse Erling Haaland Io sapevo che fosse Messi Al 100% Lo dico un po' di giorni prima Ma perché per me è una notizia Cioè dire che Messi Ha vinto il pallone d'oro Per me è una notizia E tantissimi Ah hai rovinato la cerimonia Del pallone d'oro Tantissimi Spoiler 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 però È il mio lavoro Non può essere sempre Un lavoro bello In cui ti arrivano cose Che vuoi tu Qualche volta Devono essere dette le cose Che sono reali Però non possono Sempre essere controllate Quindi ogni tanto La reazione è che ci sono Un po' troppi spoiler Però ti dico Sapevi anche Che avrebbe vinto Sanremo No Quello non è il tuo ambito Non è il tuo Non è un'altra cosa Non è il tuo ambito Beh sì è vero C'è anche questo rovescio Tra le regole della medaglia Però la Come dire Il pathos con cui si segue Il calcio mercato È sempre qualcosa Che fa Che fa sognare Ed è aumentato tanto Negli anni In qualche modo No Ha aumentato in una maniera Spaventosa Cioè ti dico Veramente La molle di persone Interessate È incredibile E i numeri che si fanno Io ad esempio Ho fatto una diretta Su Instagram Che non facevo Da 5-6 anni Per ragioni contrattuali Con altre piattaforme C'è stato un momento Quest'estate In cui potevo fare Una diretta su Instagram Non lo facevo Ripeto da tanto tempo Dico ok C'era questo giocatore Di cui ti parlavo Quando citavo Parigi Che è Caicedo Che poteva andare Tra Liverpool e Chelsea Tanti dicevano Va a Liverpool Poi si inserisce il Chelsea Insomma c'è questa notte Molto confusa E quando le cose succedono Di notte Sono sempre più affascinanti Sono le due di notte Io sono a casa A Milano È agosto E dico sai che c'è Faccio una diretta su Instagram 5 minuti Per raccontare alla gente Come stanno le cose In questa guerra Per un giocatore Che non è neanche Messi Ronaldo O Mbappé Faccio questa diretta E c'erano 186.000 persone collegate In diretta live su Instagram Da tutto il mondo Tu questa la facevi in inglese Sì 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 Tutto in inglese Io lì dico Senza preannunciare nulla Alle due di notte Su un giocatore Che non è che sia Messi Dicevo immaginate Se fosse Messi Ero sotto shock Come lo è stato Quando Cristiano È andato al Manchester United Quando Cristiano Alla Manchester United Lì ero su Twitch E lì ho fatto una diretta C'erano 99.000 persone Massimo toccato Di persone connesse Lì dicevo Cavolo Mi ricordo Che c'era tutta questa cosa Eh no Allora sì Ha venduto le case A Torino Quindi allora La prima cosa che guardano È se ha venduto Se ha venduto la casa Si sta spostando Sì se ne va Non se ne va Come l'hai vissuto Anzi facciamo un passo indietro Sì Quando Cristiano Ronaldo È arrivato alla Juve Che credo che sia La mossa di calcio mercato Più grande degli ultimi anni Non so Negli ultimi anni Forse quando eravamo Tu di che anno sei tra l'altro Io sono nel 93 Ok sì nel 93 Io sono nell'88 Comunque quando eravamo Più piccoli di noi C'erano stati grandi Colpi di mercato Sempre nel calcio italiano Da Ronaldo Il fenomeno Tante altre cose Cristiano Ronaldo Negli ultimi 15 anni Sarà stato quello più Anche di più Negli ultimi 20 anni È stato colpi Io quello non ci credevo Neanche quando è uscita Dicevo ma va Ma non è vera questa cosa Come hai vissuto tu Quella trattativa Eri già chiaramente Sul pezzo in quegli anni Sì ed ero per strada E quindi l'ho vissuta Fuori dall'albergo Dove c'era Marotta E paratici della Juve A fare la trattativa E mi ricorderò per sempre Quel pomeriggio lì In cui loro entrano in hotel E parlando con Marotta Fuori dal microfono Vedevi un entusiasmo diverso Diceva forse oggi Riusciamo veramente a chiudere Siamo tutti in contatto C'è una colla alle 4 E ricordo ancora La loro faccia Quando sono usciti I dirigenti da Juventus Dall'hotel Quando tutto era firmato E stavano preparando I comunicati ufficiali Sembravano dei bambini Perché poi alla fine È un gioco E questo è il bello Che uno immagina Che il giocatore Il dirigente Siano persone sempre super serie Sempre dei super eroi In realtà la faccia Che avevano loro In quel momento lì Così come io Che mi trovavo In questa cosa più grande di me Era di aver realizzato L'impossibile Cioè vedevi due persone Marotta e Paratici Che dopo aver fatto Degli anni incredibili alla Juve Portano Cristiano Ronaldo Ed erano felici Come dei bambini Che prendono la figurina Che gli mancava Era lo stesso tipo di sensazione La stessa reazione Costa un po' più di una figurina Appena 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 in più Però anche per me È stata una cosa Ti dico Di trovarmi lì In quel momento In quel giorno È stata un'emozione indescrivibile Perché poi te le porti Queste cose qui Ma infatti tu prima Hai citato più volte La strada Cosa vuol dire fare il tuo lavoro Per strada Io l'ho fatto per tantissimi anni Dai 19-20 Fino al covid Quando poi è cambiato Proprio il modo di fare Anche calciomercato Si fa molto meno In questo modo qui È molto di più online Con le call Più moderne Però per tanti anni E ti parlo quasi di 6-7 anni È stato strada vera Nel senso che Qui a Milano Il calciomercato Si fa come in nessun'altra città Del mondo Cioè si fa Negli alberghi Nei ristoranti Nei posti Che possano essere Delle sedi private Dei club in centro Però Milano Essendo una città Che agevola molto Questo Nel senso che Spostandosi In poche centinaia In poche decine di chilometri Si riesce a stare Negli stessi posti Questo è diventato Da un punto di vista Facile per me Perché io sapevo Dove andavano I dirigenti Dei club ogni giorno Quindi se c'era una notizia Che dovevo cercare Sull'Inter Sapevo che c'era Questo posto qui Se c'era sulla Juve E questo hotel qui Se c'era sul Milan Il pranzo è sempre In quel ristorante lì Quindi tutte queste dinamiche Di dove cercare le persone Diventavano la mia quotidianità Io uscivo di casa La mattina presto Tra le 9 e le 10 Non prestissimo Ma comunque Intorno alle 9 e le 10 E da lì fino alla notte Mezzanotte Luna in base a quello che succedeva Si stava in giro Per strada A cercare notizie Quindi fuori dagli alberghi Fuori dai ristoranti Fuori da qualunque posto Tu potessi trovare Un dirigente Un presidente Un giocatore Un allenatore Chiunque fosse parte Di questo mondo Ma tu lì in quei casi Osservavi Tipo appostamento Osservavi Tipo appostamento Tipo gossip Cercando di fare la foto Cercando di fare il video Cercando di avere In certi casi l'intervista In alcuni casi È loro interesse Farsi vedere In altri casi Assolutamente E quindi Era come andare Non è che andavi da loro A chiedergli Allora come Andate la trattiva Alcune volte si Sì Proprio scudorato Era una cosa Molto Ti dico Istantanea Ogni giorno decidevi Era istinto puro Nel senso che In base a come vedevi Il mood della situazione Decidevi se buttarti Magari avere un dialogo O rimanere nascosto E portarti a casa La notizia in sé Poi ho capito Con gli anni Che la gestione Della notizia E del rapporto Era più importante Della notizia stessa E me l'ha insegnato Una notizia Che era quella di Dybala La Juve Che mi ha fatto capire In particolare Questa cosa qui Perché ero in giro Tutto il giorno Era d'inverno Dybala giocavo al Palermo Sta facendo una stagione Incredibile Tutti vogliono Dybala Milan, Inter, Juve Tutti Però non sarebbe andato via Nel mercato di gennaio Cosa succede? Che la mattina Vado in giro Ora di pranzo Mezzogiorno Vedo in un hotel Del centro di Milano Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini Con La gente di Dybala Loro due insieme Li vedo entrare Aspetto che escano Escono molto contenti Quindi dico Vabbè Provo a chiedere al presidente Se vuol fare due battute Facciamo intervista Il presidente dice di sì Con la gente a fianco Fa questa intervista Per Sky E mi dice Rinnoveremo il contratto Di Dybala C'è l'accordo Per un nuovo contratto Un nuovo stipendio Tutto pronto Paolo resta con noi Perfetto Andiamo in onda Questa intervista Ero anche abbastanza contento Cosa succede? Che la sera Prima di andare via Prima di tornare a casa Dico Faccio un ultimo giro Verso le nove e mezza In un altro hotel Dove so che di solito C'era la Juve E vedo i dirigenti della Juve Che erano Con la gente di Dybala Nello stesso hotel Li vedo uscire Faccio un video Lì quel video Non sarà mai pubblicato Rimane sul mio telefono Per il resto dei tempi Perché io dico lì Non pubblico questo video Perché non voleva la Juve In quel momento Creare un problema al Palermo Chiaramente a livello di immagine Tu la mattina Ti accordi su un contratto nuovo E la sera Stai già trattando Tu a gente di Dybala Con la Juventus Per l'estate Non è il massimo Da quel punto di vista Io gestisco quella notizia Ma da lì Ti cresce un contatto Ti cresce il rispetto Di questa persona Che ti dice Ti avviserò per primo Quando lo porteremo alla Juve E così sarà Cioè quindi loro ti hanno chiesto Per favore Non pubblicare questa cosa No no oggi aspetta Ti avvisiamo noi Esattamente E tu l'hai fatto Io l'ho fatto Lì credo che Il 90% dei miei colleghi Che condividevano la strada con me Con uno scoop del genere in mano Ci pensano due volte A pubblicarla Perché per una televisione È troppo importante Avere un'immagine del genere Per me in quel momento lì Aveva più valore Il rapporto con queste persone Che poi nel calcio Diventano persone Sempre più importanti Essendo la Juventus Andando poi in altri club E questo a me ha fatto capire Che il valore del rapporto umano Per strada È elevatissimo È quello che poi ti porta A rispetto di tutti E questo va un po' in controdendenza Con quello che vediamo di solito Cioè adesso c'è la fretta A dare la notizia E spesso e volentieri Poi quella notizia Non è vera A me mi aveva impressionato Cioè ricordo che non era Non è calciomercato Il mondo del calcio Però quando era scomparso Minoraio Quella cosa lì Mi aveva impressionato Cosa è successo lì secondo te? Lì è successo che la notizia È stata condivisa Da un media Che non ricordo neanche Sinceramente quale fosse E tutti Senza verificare L'hanno ripresa Soltanto perché possa essere Un media grande La riprendono in automatico Ma parliamo dei più grandi D'Italia e del mondo Addirittura esce un comunicato Del Real Madrid Sì Scrivendo il condoglianze Per Minoraio Questo dimostra come oggi Se viene fuori una notizia Nessuno più Pensa verificarla In quel caso lì Io ricordo la reazione Di chi era vicino a Mino I suoi parenti E chi lavorava con lui E erano completamente Sotto shock Continuavano a dirmi Per favore scrivi che non è vero Per favore Sai in quel momento lì Non è neanche facile Perché poi si parla di un tema Che chiaramente va anche oltre Qualunque tipo di Discorso che possiamo fare Però ti dimostra come l'industria Del calcio Dello sport Ma delle notizie in generale Giornalistica Si è diventata Veramente troppo superficiale Secondo me E questo è un po' Il mio vantaggio Sì A quel punto vince Chi si comporta bene Sulla lunga Perché adesso in realtà Tutti pensano di poter vincere Dando la notizia Sì io non credo che il tempo Sia un fattore così determinante Secondo me è una ciliegina sulla torta Se tu riesci ad essere il primo Al momento giusto E a colpire il bersaglio Al momento perfetto È la sensazione più bella Come ti ho detto prima Col Bayern Ma la credibilità E la veridicità di una notizia Sono sempre sacre per me Quindi preferisco Metterla cinque minuti dopo Ma che le persone sappiano Che quando la vedono lì È la realtà Piuttosto che fare questa caccia Ad essere il primo Infatti c'è una gara a click Adesso ti faccio una domanda Un po' più tecnica Nel senso Come funziona poi il tuo business Da questo punto di vista Cioè tu adesso pubblichi Le notizie sul tuo sito Cioè finché lo facevi Per un altro sito Con cui collaboravi Non lo so C'è uno scoop Lo dicevi al Guardian E il Guardian lo pubblicava A tuo nome Comunque dicendo Stessa cosa Immagino Sky Adesso che lo fai Per i fatti tuoi Come fai a reggere Tutto in piedi Guarda Sembra folle Quando lo dico Le persone non ci credono Ma tutto quello che pubblico Sui miei social Innanzitutto sono solo social Io ho sempre voluto Mantenere questa struttura qui Quindi con piattaforme online Non ho mai voluto fare cose Né a pagamento Né siti Né cose del genere Perché non è mai stata la mia idea Mi piace mantenere un modello Legato ai social Perché sono quelli Che mi hanno cambiato la vita E sono il modo più immediato Di parlare alle persone Quindi Credo sempre che fare un passaggio in meno Alla fine aiuti Quando le persone vanno a cercare qualcosa E quindi tutto quello che pubblico Tutto Instagram Instagram stories Tweet Facebook Qualunque cosa sia Youtube È tutto pubblicato da me Con le mie mani Cioè io non potrei mai consentire Un'altra persona Ah c'è neanche uno del tuo team Che dici Fai questa Pubblichi Tu sei tu che tecnicamente Post Tutto così Tutto sotto Sotto gestione diretta Perché Veramente una parola Fa la differenza Cioè mettere agreement O mettere verbal agreement Cambia tutto Fa la differenza Non soltanto a chi legge E quindi una forma di rispetto Per chi ti sta seguendo E ti crede Ma anche a chi ti dice le notizie Cioè quando poi una persona ti chiama Ti dice Fai uscire questa notizia Oppure questo è vero Questo è falso Cosa del genere Che sia poi tu A gestirla A maneggiarla A pubblicarla Fa la differenza Piuttosto che lo faccia magari Un'altra persona Che può essere un po' più distratta Un po' meno preparata Non pronta a gestire una cosa così grande Io preferisco che tutte le notizie Siano sempre sotto il mio controllo Finché sono dentro questo mondo Perché È un passaggio troppo importante È talmente delicata la questione Che non puoi fare Però quindi Usi prettamente le piattaforme Però tu hai un tuo sito Dove poi rimandi tutto No Non hai niente È sempre stata una mia scelta questa Di mantenere i social Come fonte primaria Perché voglio che le persone Vadano lì Piuttosto che su un sito Di fare un passaggio in meno E però in questo caso Adesso non voglio farmi fatti tuoi Però il guadagno Da dove arriva Quello per Dagli sponsor Ah Ok Sì Quindi la mia idea è Di crescere sui social E che questi social Abbiano degli sponsor Quindi fare tu Essere tu Chiaramente brand Sì Fare del personal branding importante Nel senso che a quel punto Poi le realtà vogliono supportare Te Esattamente Oppure quando ci sono Determinati momenti Per esempio L'ultimo giorno di calcio mercato Che è quello Un po' più divertente In cui possono succedere le cose Nelle ultime ore C'è questa maratona Del deadline day Che magari è sponsorizzata Che è sponsorizzata Da due o tre sponsor Perché può essere Particolarmente interessante Piuttosto che su alcune notizie Ci può essere il branding Di uno sponsor Per quelle notizie Per quel here we go O cose del genere Quindi si cerca sempre Di costruire su quello E a me piace far così Nonostante mi abbiano proposto Tanti modelli diversi Ripeto Credo sia il più immediato E anche il più rispettoso Di chi legge Questo è molto interessante Perché sono curioso Anche di farti un po' Questa domanda Perché chiaramente È cambiato Il mondo della comunicazione È cambiato tutto E anche quella cosa Che tu fai adesso Davvero era impensabile Rispetto a qualche anno fa Guarda assolutamente Io ho iniziato Andando al liceo In macchina Con mia mamma Veniva a prendermi una volta Mi ricordo Quasi mai Perché lavoravo in ospedale Quindi era particolarmente impegnata Però una volta Viene a prendermi E mi dico Mamma io voglio fare giornalista E ero tipo 15-16 anni Stavo avvicinando A questi primi piccoli siti Dico io voglio fare questo Cioè voglio andare a Milano E far questo E la mamma continuava a dirmi Sappi che è un lavoro Dove non si va Su certe cifre Non è un lavoro così affascinante Provo a fare qualcos'altro Se un ragazzo Magari dopo il classico Può fare l'università Medicina Mia mamma Mia papà Quindi entrambi Fai medicina Fai medicina Io dicevo io Voglio fare giornalista Cioè non mi interessa Andrò su questa strada qui Nonostante so che è complicata Quindi parto con quel tipo Di mentalità lì Con la mia famiglia Che mi dice no Non prendere quella strada lì Però per me Non c'è mai stato piano B Questa è la verità Io non ho mai visto un piano B Perché per me Il calcio è la mia vita È la mia ossessione È quello che mi diverte E il giornalismo È quello che mi dà Questa adrenalina Il calcio mercato Per questo non mi hanno mai affascinato Magari le telecronache Tutto questo mondo Il giornalismo sportivo Più del commento La telecronaca Non mi ha mai affascinato Perché a me piace l'adrenalina Come ti vedono secondo te I tuoi colleghi Di altri Magari non del calcio mercato Ma giornalisti sportivi in generale Ti dico All'estero Io ho un rapporto bellissimo Con tantissimi colleghi Soprattutto in paesi Come magari la Spagna La Germania Anche l'Inghilterra stessa Faccio un po' più fatica Quando sono colleghi Un po' più avanti con gli anni E lo capisco Sinceramente Magari molti colleghi Per esempio inglesi Over 60 Over 70 Giornalisti molto importanti inglesi Ma di un'altra epoca Fanno fatica a rispettare Quello che faccio io Perché capisco Che sono abituati A tutt'altro modello giornalistico Che questo probabilmente È anche meno giusto Meno pulito Da un certo punto di vista Quindi loro preferivano Una comunicazione più diretta Con il club È anche vero Che nel mio modo di lavorare Credo si sia un po' rovinato Un paradiso Che era il paradiso precedente Che è quello del giornalista Inglese soprattutto Che magari O di questi paesi qui Che la sera Alle 8 Fa la chiamata al club Gli vengono comunicate Quelle tre cose Le scrive sul giornale La mattina dopo E va a dormire Questo non esiste più Perché oggi Alle 2 di notte Sei lì che bombardi Per sapere chi prende il Chelsea In Manchester United In Manchester City Quindi hai rovinato Un po' i piani Di chi era abituato A un paradiso E questo non a tutti piace Però con chi ha la mia età Di solito sempre Questo secondo te Perché succede? Me lo chiedo anche io In tanti settori Cioè il fatto di dire A un certo punto Le cose cambiano Ma cambiano perché Secondo te O magari non viene data La possibilità ai giovani Di fare anche loro Quel percorso più lineare Quindi in qualche modo Se lo devono prendere Il proprio spazio Lo vanno a prendere In un mare Dove non pescano gli altri O c'è qualche altro motivo? No secondo me C'è un po' questo Che dici tu Nel senso che c'è sicuramente Uno spazio Che devi andare a prendere Se vuoi entrare In un'industria Che è già strapiena Perché se no non ti fanno entrare È strapiena Assolutamente E poi io credo Che nel momento in cui Cambiano le piattaforme Aumentano le opportunità Io Instagram Non avevo neanche idea Di cosa fosse Quando ho iniziato Oggi è diventata La cosa più importante Dal mio punto di vista Del modello Che seguo oggi Quindi quando ci sono Piattaforme nuove Ci sono opportunità nuove È giusto che i ragazzi Più giovani Vadano su quelle piattaforme nuove Io vedo tanti ragazzi Che magari provano a fare Quello che ho fatto io Qualche anno fa su Twitter E iniziano a mettere Tutti questi tweet al giorno Che oggi non funzionerà mai Perché comunque anche quello È cambiato Oggi ci sono altre piattaforme Che stanno evolvendo Stanno crescendo Su cui io Se avessi dieci anni in meno Ti butterei Perché credo che il futuro Sia sempre In andare a prendere Il nuovo spazio Non andare a riempire Qualcosa che c'è già Ed è questo che darà Sempre più fastidio Bisogna andare a prendere Le cose che danno fastidio Purtroppo Questa è la realtà E il mio unico problema Da questo punto di vista È stato Con dei giornalisti olandesi Particolarmente gelosi Un po' Non contenti Del fatto che si potesse andare Sulle notizie Che magari prima Potevano controllare loro facilmente E lì mi è capitato Una volta che mi accusassero Di avergli copiato le notizie Su un giocatore Anthony Che doveva andare Al Manchester United All'Ajax E fanno questo podcast Il Telegraph Un giornale olandese Fa questo podcast Attaccando Dicendo Fabrizio Ho copiato la notizia Gli ho chiamati Ho detto Invece di attaccarci Nei podcast Ognuno dell'altro Invitatemi Vengo a parlare Parliamo Avete un problema con me Lo affrontiamo Mi hanno bloccato Da tutte le parti Non ho voluto parlare Il giorno dopo Ho fatto intervista esclusiva Al giocatore Che diceva Voglio andare al Manchester United D'apposta Per dirgli Se mi vieni a dire Che ti copio Io ti faccio una cosa Ancora più grande Perché così deve essere Ah e vedi No Lì bisogna essere Dei serial killer Eh no Perché in quel caso lì Se no è un attimo Che gli squali grossi Tra virgolette Perché lì parliamo Cioè tu stai citando Gente che vuole Come dire Competere con te O che compete con te Ma sono multinazionali Non lo so Però sono realtà Casi editori Cioè sono Scusami editori Cioè Redazioni Robissime persone Enormi No Quindi già il fatto Che tu stia Quanto meno Solleticandoli È qualcosa Adesso in realtà Stai facendo delle cose Anche più grandi Questa è un po' La forza anche Di tutto quello Che stai facendo Qual è la cosa Che ti ha dato Un po' più soddisfazione Al di là delle notizie O dei premi Una cosa che ti dà Un evento Qualcosa che ti ha dato Grande soddisfazione O ritrovarti con qualcuno Non so A cena con Alland O altre situazioni Guarda È stato con il papà Di un giocatore Del Chelsea Che si chiama Marco Cureia Che quando è andato Al Chelsea Dal Brighton Succede una cosa Un po' particolare Che il Brighton È un club piccolino Ma che controlla Molto bene Le informazioni local Quindi tutti i giornalisti Vicini al Brighton Scrivevano cose Che voleva il club Io invece Conoscendo delle fonti Lato al giocatore Scrivevo che il giocatore Voleva andare via Voleva realizzare Questo sogno Di andare al Chelsea Quindi l'ho un po' Aiutato da quel punto di vista A far venire fuori La sua verità E non solo quella del club Che raccontava I giornalisti inglesi Alla fine Dopo una guerra social In cui addirittura Il Brighton Arriva a smentire Una mia notizia Con un comunicato ufficiale Dicendo che il giocatore Non andrà via E io lì mi sono anche Un po' spaventato Ma poi credevano Alle mie fonti Ho detto per me Il giocatore andrà al Chelsea Il giorno dopo A fare le visite mediche Lo vendono al Chelsea Quindi esco vincitore Ma a marzo L'anno scorso Vado a vedere Chelsea-Borussi-Dormund Allo stadio E ero lì Poi dopo nella lounge Dove ci sono tutti i giocatori Del Chelsea dopo la partita Saluto un po' di giocatori A un certo punto Arriva una persona Che non aveva idea Di chi fosse E mi abbraccia Non dimenticherò mai L'hai fatto con disinteresse Ma con amicizia Hai voluto far venire fuori La verità di quella storia Piuttosto che seguire Quello che diceva Soltanto il club Per i loro interessi A prendere 2, 3, 5 milioni in più Quell'abbraccio lì Per me è stata Una cosa che mi ha lasciato Talmente C'era proprio una persona Talmente genuina Semplice Cioè non era il papà Sai puoi pensare Con l'orologio Superrico Sì 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 Una persona di una semplicità Incredibile Che mi ha lasciato Una sensazione Come a dire vedi A volte al di là Di quello che tu puoi pensare I social I numeri Il business E tutto il resto C'è questo lato umano Che ti rimane del calcio A cui magari neanche pensi Quando dai la notizia Che coinvolge le famiglie Dei giocatori Il papà La mamma La moglie Il figlio Tutto questo Che è magico Quello è stato un momento Per me magico In cui mi sono firmato Sono tornato in hotel E dicevo Che bello Veramente che il papà Di un giocatore Sia arrivato a far questo Sì è vero Questa è una grandissima soddisfazione Guardando poi i numeri E le cose Che è il pubblico Che ti segui di più Quale paese È più attento Tantissimi Stati Uniti Inghilterra Stati Uniti Seguono tanto Sì tantissimo Si stanno avvicinando Al calcio Nella maniera impressionante Come tutti i paesi Poi Insomma Dell'est Asiatici Anche Arabia Ovviamente Adesso sono In una crescita Spaventosa Stati Uniti tantissimo Io credo Che con la notizia di Messi Con l'arrivo di Messi In MLS E con il mondiale Che si avvicina Loro si stanno avvicinando Tantissimo Soprattutto anche perché In America Il calcio è cambiato tanto Sta crescendo Anche a livello Proprio dei giovani Stanno iniziando a produrre Dei giovani forti Con la testa sulle spalle Che sono professionisti veri E questo è un valore Molto apprezzato in Europa Dove si fa magari Un po' più fatica A controllare I nostri ragazzi Più giovani Quindi sì Soprattutto direi Inghilterra Stati Uniti E poi chiaramente Tu vuoi spesso vedere partite? Molto spesso Perché l'opportunità Di conoscere persone nuove Ecco questa È la parte Che deve rimanere sempre Nonostante tu possa avere I numeri più grandi che vuoi Però Il lavoro quotidiano Devi mantenerlo Altrimenti Le dinamiche nel calcio Non sono magari statiche Come in tante altre realtà Nel calcio cambiano In continuazione Gli agenti più importanti Giocatori più importanti Club più importanti Dirigenti più importanti Di anno in anno cambiano Può essere in crescita In calo Alcuni Alcuni protagonisti Quindi è importante Star vicino A persone anche nuove Che si avvicinano ai giocatori Che possono essere parte Di questo mondo Quindi vado a vedere partite Prima di tutto perché mi piace Ma anche perché prima Dopo la partita Magari durante C'è sempre uno scambio Io provo magari a fare 4-5 incontri Lo stesso giorno A Londra A Madrid A Parigi Perché poi mi aiuta Insomma che le relazioni In qualche modo Sono la cosa Sempre Più importante In assoluto Sempre Assolutamente Non oso immaginare La sim Di Fabrizio Romano I numeri di telefoni Pesanti Vabbè allora Se dopo riusciamo a invitare Poi si può invitare Allan dal basement Quando vieni in Italia Diggli Guarda che carino Questo posto Gli lo dico Gli lo dico Sì è nel semi interrato Però ci si trova bene Però funziona carino Confermo Questo glielo puoi dire Quindi insomma Il pubblico adesso Arriva veramente Da tutto il mondo Quali sono le tue Cioè tu ti sei Ti fai una proiezione Di te nel futuro No Ti dico la verità Non la faccio Perché questo mondo Mi ha stupito talmente tanto Che se l'avessi fatta Oggi mi farebbe ridere Quindi intendo a non farla E a lavorare tutti i giorni Sul presente Non guardo troppo avanti So per certo Che non voglio fare Quello che tanti Si immaginano Che io possa fare Tantissimi dicono Magari perché non fai Il direttore sportivo Conosci tanti giocatori Potresti facilmente Avere rapporti con tutti Per comprare giocatori Piuttosto che la gente Tantissimi dicono Ma perché non fai la gente Il rapporto con i giocatori È così facile Così puoi prendere tutti i giocatori Sì a dirsi è facile Poi a farsi Un altro mestiere Un altro mestiere Esattamente Che non conosci È un'altra cosa E in cui tutti i tuoi amici di oggi Diventano i tuoi nemici di domani Sì 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 Quindi io non ho neanche voglia Di cominciare un'altra Un'altra battaglia Un altro percorso Mi piace quello che faccio Mi piace il giornalismo Quindi sicuramente Vedo un futuro Ancora così Non so per quanto Sul calcio mercato Ti dico la verità È comunque un mestiere Molto bello Molto entusiasmante Ma essere tutti i giorni Connesso a tutte le ore È complicato È una cosa che La lunga ti scarica Cioè tu non hai mai avuto Un momento di burnout No Ancora no No perché altrimenti Appena molli un secondo Secondo me è proprio L'inizio della fine E io voglio evitare Esattamente questo Cioè tu devi cercare Di non arrivare Al limite Esatto Lì una gestione Di tante cose Per esempio ti dicevo Che per me è fondamentale Vivere a Milano Perché ho l'equilibrio Dei miei amici Che per me è importantissimo Cioè le cose Che posso far con loro Che sia andare a vedere Una partita O il giocare al calcetto Piuttosto che la cena Queste cose Però immagino che tu sia Però immagino che tu sia sempre così Così è Cioè col telefono in mano Tranne quando sono qua con te Infatti Spero cazzo che adesso Tu avrei lasciato il telefono A qualcuno Ma potrebbe succedere Qualsiasi cosa Però effettivamente Vivi con questo pensiero Ti faccio una domanda Un po' personale Non l'hai citata Una fidanzata È un po' complicato Credo da avere Oggi è difficile Oggi è difficile È una cosa difficile Cioè Ne ho avute un paio Ma sono state Purtroppo vittime Di questo Diventa veramente complicato Per loro Puoi capire Come è la situazione Più che altro Pesa anche un po' a me Nel senso che Ti trovi veramente in simbiosi E quindi entri in simbiosi L'altra persona Con il tipo di vita Che fai tu Che poi non è che sia Una vita così malvagia Però è molto impegnativa Oppure diventa Veramente difficile Quali sono i plus Perché adesso chiaramente Questa è una vita Adesso uno magari ci ascolta E dice Ma questo è pazzo Ha tanti plus Ha tanti plus E soprattutto è una cosa Che ti piace Ed è la tua ossessione In positiva Parli di calcio Quindi C'è invece tantissima gente Che chiaramente L'obiettivo di tutti È riuscire a fare una cosa Che piace In questo caso È totalizzante Chiaramente E quali sono i plus Cose belle Che ti dà questo lavoro Oltre a quelle Che abbiamo citato Fino adesso Poter essere dove voglio E tutti i giorni Questa è la cosa Più bella in assoluto Era il mio desiderio Quando ho iniziato Io quando ho iniziato Che ti ripeto C'era questo concetto Di redazione Che a me quasi spaventava Alle otto ore Quel tipo di cosa lì A me essere chiuso In un posto E sapere di non poterne uscire Perché c'è il turno Questo tipo di cosa Qui non mi faceva dormire Ti mandava fuori di testa Adesso poter dire Io domani voglio andare a Madrid Due giorni A fare gli incontri Con queste persone Sono sempre finalizzate al lavoro Non è mai vacanza Perché poi alla fine Vacanza vera Praticamente non esiste Però esiste tutti i giorni Nel senso che tu fai Quello che ti piace Nel posto in che ti scegli E questo è impagabile Cioè nel senso che sono io A prendere il calendario E dire ok questa settimana C'è il Real Madrid Gioca contro questa squadra qui Vado a Madrid due giorni Ok questa settimana Conviene stare a Milano Perché viene questa persona C'è questa partita Quindi poter disegnare La propria vita È un plus Per me è incredibile Altri sport ti segui? No solo calcio? No no Ti dico la verità Anche perché altrimenti Non puoi Non diventerebbe ancora più Il mio problema è il tempo No è vero Il mio grande problema è quello lì Cioè tu non hai il weekend Chiaramente Cioè non hai dei giorni Non ho un momento in cui dici Oggi faccio una cosa Che possono fare tutte le persone Tranquille con la propria vita Magari il weekend off Come dicevi tu No questa cosa qui È più difficile Però ti capisco Facendo cose diverse Però quando poi sei dentro Una cosa così che ti piace Che ti ossessiona In qualche modo Io ripeto positivo Poi un termine che viene usato Viene quasi ultimamente Un po' come dire Demonizzato No il fatto di dire Di essere ossessionati In qualcosa Però io non conosco Una persona che ha raggiunto Risultati come possono essere i tuoi Che però non abbia Nello sport Nella vita Nel lavoro Eccetera Perché non abbia un po' Questo tipo di No per me è stata fondamentale Ti dico Nonostante tanti possano vederci Magari ce ne saranno Delle particelle Di talento Di bravura Chiaramente Ma per me la parte Dell'ossessione È quella che ha fatto la differenza Cioè io ho visto Tante persone intorno a me In questi anni Molto brave Anche con mezzi Molto più avanti Dei miei E potenzialmente fortissimi Non seguire questa strada Perché poi Esserci dentro tutti i giorni E rinunciare al fatto Che a 18 19 20 Il weekend Vuoi farlo Durante l'estate A formentera Invece se l'asfalto a Milano Ripeto È un privilegio Non lo vendo come un lavoro difficile Ma è comunque un lavoro totalizzante Non poter avere quello stacco È una cosa che tanti Non riescono ad accettare Perché magari preferisci Avere una vita più normale È probabilmente giusto Attenzione Non sto dicendo Che sia quello che faccio io Sono scelte Probabilmente me ne pentirò Ma oggi sono felice Di aver fatto quello Che mi fa star bene Sono scelte E a parte Alan Chi sono gli giocatori Con cui hai un rapporto Un po' più Ma ce ne sono Ce ne sono un po' Sì 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 Non amo molto far nomi La cosa di Alan È così perché Sì esatto Poi ce ne sono Ce ne sono un po' Però è soprattutto una cosa Ti dico che Ormai è diventata quasi facile Lo dico quasi con il basso Perché io sono il primo Quando avevo 16 anni Ero il primo a andare fuori Al centro sportivo del Napoli A aspettare il giocatore E farmi la foto Quindi ancora oggi Mi sembra incredibile Però oggi capita Che tanti giocatori Ti scrivano direttamente loro Cioè mi capita spesso Che magari Mi è successo Che un giocatore Quando doveva andare Tra due squadre inglesi Mi scrivesse per dire Sto andando in questa squadra qui Puoi dirlo tu Che ci tengo Che lo dica tu Per favore Cioè c'è sempre Una sorta di mito Nel voler apparire Con Liruigo su Instagram Che era una cosa Che a me fa gioco Cioè è diventata una cosa Cioè è incredibile Per alcuni giocatori Sì sì Però è incredibile Questa cosa che hai creato Cioè che uno vuole farlo con te Perché gli piace Che la notizia la dia tu Sì Questo sì È pazzesco Liruigo quando è nato? È nato intorno Se non sbaglio 2018 Ma è nato completamente a caso 2017-2018 Ma completamente a caso Perché Io stavo continuando A scrivere una notizia Che non so neanche quale fosse Non me la ricordo Proprio perché era tutto Tanti si immaginano Magari c'era con un'agenzia Che ti ha aiutato Ero semplicemente lì A scrivere una cosa Sul Manchester United Una trattativa molto lunga Continuavo a fare questi tweet Aggiornando Ma tipo mesi E dopo due mesi Scrivo Ok Adesso finalmente è finita Ci siamo Ho scritto Here we go Finita E dal giorno dopo Tutti quanti iniziano a commentarmi Tutti i tweet Scrivendo Puoi dirlo anche per il Liverpool Per favore Anche per il Real Madrid Davvero Anche per il Manchester City Ho detto va bene Iniziamo a fare questa cosa E lì essendo nata così Sui social Sì che ha fatto la differenza Io non pensavo mai Nella vita Che potesse aver senso Questo tipo di cosa qui È perché diventa un tormentone Cioè diventa quella cosa Che ti fa riconoscere Diventa un timbro Nel senso che tutti aspettano quello Per poter considerare Una cosa fatta e finita Quindi è stato casuale Ma è stato molto bello Perché è nato con le persone Grande Stima assoluta Tra l'altro Io ti ringrazio anche perché Mi hai portato un regalo Che metteremo qui All'interno del basement Per chi ci fosse Cioè Chi fosse solo all'ascolto È una maglia Con su un tweet tuo Sì nel 2021 Un tweet del 2021 Che ha fatto il giro del mondo Dove c'è scritto By the way Sleep is overrated Sì che il sonno è sopravvalutato Perché quando è arrivato Questo tweet Venivo da 12 ore di maratona Su Twitch 12 ore di maratona Mezzogiorno a mezzanotte Tutte su Twitch Tutte su Twitch Tutte in due persone Io e mio amico Francesco Lì Chiusi in una stanza A parlare Fine Senza intermezzi particolari Era il primo anno Che facevamo questa cosa 2021 E finisce Devastati Distrutti E lì scrivo Tutti quanti mi dicono Complimenti È finita finalmente Ce l'avete fatta È finito il mercato Goditi il riposo Tutto quanto E io ho scritto Due e mezza di notte Dopo aver mangiato con il mio amico By the way Sleep is overrated Perché la storia è la mia vita Io dormo poco Ma per me la notte È troppo importante È questa la vita Ci fai le altre Un po' il tuo rifugio Mi sembra di aver capito Esattamente Quel momento in cui riesci A mettere appunto I pezzettini E poi sono tutti impazziti Perché già ti seguivano Esatto Hanno vissuto con te Questa Qual è il tweet Che ti piacerebbe fare Del futuro immaginario Bella domanda questa Bella domanda Mi piacerebbe sinceramente Poter annunciare Qualcosa di molto grosso Molto presto Su Mbappé Ah sì Credo che ci siamo Probabilmente Quando vedranno Quest'episodio Ci sarà già qualcosa Da quelle parti Però penso che Mbappé e Real Madrid Va nella direzione Di essere il tweet E il post Instagram Con più interazione Della storia Perché è tanta attesa Questa cosa Sì È attesissima da anni E quindi quel momento Lo sto proprio aspettando Ti dico la verità Sono curioso dei numeri Che farà Perché penso che possa essere Una cosa Con dei numeri Enormi Inimmaginabili Sì Beh perché Perché che cazzo Ci fa ancora il PSG Dai Ma no Ma infatti Credo che Così sarà E qualcosa invece Che ti sarebbe piaciuto annunciare Ma anche nella storia Maradona 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 Io ho il mito di Maradona Da napoletano Per me Sono cresciuto Con Maradona Sui muri Nelle strade In famiglia Ovunque Per me Maradona È sempre stato il mito Anche quello di non aver conosciuto Diego È una cosa che magari oggi Sai se fossi stato Magari l'avresti beccato È appunto la possibilità Una cosa È un rimpianto enorme Che ho Perché per me Maradona è proprio In un altro pianeta Ogni volta che mi chiedono Sì ma a me Si Ronaldo Grande rispetto per tutti Ma per me Essendo napoletano Beh sì C'è una componente di cuore Una componente di divinità direi Sì 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 E a Napoli è veramente Un'altra cosa È qualcosa di grande Va bene Se vuoi dare lo scoop Allora messi alla Juve Ragazzi è fatta L'ha detto No non l'ha detto Non ancora Ho la sensazione Ma non sarebbe neanche Una cosa grandissima In questo momento Comunque Io ti ringrazio un casino Per questa chiacchierata Fabrizio è stato super Credo di grande ispirazione Davvero per tutti coloro Che Non solo sognano Di fare questo mestiere Ma che insomma Sognano di vivere Delle proprie passioni In qualche modo E poi era un mondo Che personalmente Io non Non conoscevo E che ovviamente Immaginavo avesse Dei risvolti del genere Ma che soprattutto È cambiato tanto E questo non è il futuro Ma è il presente Grazie davvero Grazie a te Fabrizio Romano È passato dal basement